Giorni insieme a me e dai tuoi ma soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà Questo è un video per l'Associazione Dile del Presidente, giornalista e poeta Bruno Mancini Sono delle poesie da recitare e lo faccio con molta passione Forse fu un bene padre fermare la tua storia col mandorlo fiorito Chiudere gli occhi senza aspettare il gelo d'inverno lasciando nei tuoi figli l'eredità di vivere Avevi già provato a masticare come un boccone il pane reso duro nelle battaglie quotidiane Stanco La sofferenza del tuo immenso vuoto Noi la sentiamo come un fuoco vivo Vivo, sempre vivo Perché è diverso il sangue quando sta uscendo dalle tue ferite Ha un altro suono l'urlo Quando è parte di te Della tua carne Per te fu un cielo bello, un cielo terzo E dal tuo sguardo ti sembrò un miracolo In non dover portare sul calvario la croce dell'amara solitudine Forse fu un bene padre Ci risveglieremo Un po' confusi Nel prima con il poi Avvinti e tu 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 mi inviterai In fine mia Al brivido più lungo